Anche quest'anno l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, gruppo di Santa Maria di Castellabate, in occasione del 73esimo anniversario, l'Associazione ricorda i marinai caduti con il sommergibile Velella, quel tragico 7 settembre 1943, da parte del sommergibile britannico Shakespeare. La cerimonia avrà luogo l'11 settembre 2016, alle ore 9.30 da Piazza Antonio Mondelli, adiacente alla caserma dei carabinieri, con deposizione di una corona d'oro per ricordare il carabiniere Antonio Mondelli, medaglia d'argento al Valor Militare. Segue dei filamento per le vie del paese, con l'arrivo a Piazza Punta dell'Inferno. Segue poi la cerimonia dell'Alza Bandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti del Mare. A seguire la Santa Messa celebrata dal Parroco del Santuario di Santa Maria Mare, Don Roberto Giuda. Come lo scorso anno sarà presente alla cerimonia il veliero del gruppo Anmi di Salerno per la deposizione della corona a mare. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il presidente costabile Squillaro al numero 333-6364-341.